Ciao, sono Daniele Bezzana di WPOK. In questo video ti spiego come accettare pagamenti via carta di credito sul tuo sito WooCommerce. Per fare questo utilizziamo il servizio Stripey, che è un gateway di pagamento, quindi un servizio esterno che si occupa di raccogliere i dati di carta di credito e processarli. Tutto in modo molto sicuro, perché sul tuo sito non dovrai salvare assolutamente nessun numero di carta di credito, perché tutta questa parte viene fatta da Stripe. Allora, per l'integrazione ci sono due parti da fare, due passaggi. La prima parte avviene sul sito di Stripe, perché va creato un account, e questa è la procedura simile a tutte le creazioni di account, chiede un po' più dati di un servizio normale, perché è comunque un servizio che ha a che fare con transazioni e deve verificare anche la tua azienda, i tuoi dati, eccetera. Finita la parte di registrazione, accesso alla dashboard e per poterlo integrare con WooCommerce, nella dashboard bisogna andare sotto Developers e poi API Keys. Qui vediamo queste keyword, queste key, che sono le key che vengono utilizzate per le API. Questi sono dati di test, quindi non è niente di compromettente. La seconda parte del lavoro si fa invece su il sito WordPress, dove c'è installato WooCommerce, ovviamente, e come prima cosa si va ad aggiungere il plugin di Stripe, il plugin che permette l'integrazione. Ora, se cerchiamo Stripe qui tra la lista dei plugin, ne escono tanti. Quello che utilizziamo e consigliamo è quello ufficiale di WooCommerce. Non farti ingannare dalle recensioni che sono abbastanza preoccupanti, perché sono 3 stelle su 5, ma in realtà noi lo utilizziamo, lo utilizziamo su tanti siti, funziona veramente bene. L'installazione è la classica, installato, attivato. Fatto questo, la configurazione si trova sotto le impostazioni di WooCommerce, pagina pagamenti, e ecco qua, è comparso Stripe. Vado su Configura, attivo Stripe, e ci sono due cose da fare. Allora, innanzitutto, sotto Stripe Account, Setting, va configurato un webhook che punta a questo indirizzo. E questo si crea qui, Ad Endpoint, questo è l'indirizzo che c'è dato il nostro WooCommerce, se vogliamo mettiamo la descrizione, tipo di eventi. Quindi, selezioniamo gli eventi che hanno a che fare con il Charge, e aggiungiamo l'Endpoint. Quindi, questa parte è fatta. Seconda parte è inserire le API Key che abbiamo visto prima. Ce ne sono due, Publishable e Secret, praticamente pubblica e privata. vanno inserite tutte e due, e la differenza è se vogliamo utilizzare quelle di test o quelle live. Adesso inserisco quelle di test, perché sono normalmente di test, qua cliccando me le copia già, quindi questa è la Publishable. Eccola qui, e questa è la Secret. Inserisco qui. Il resto lo lasciamo come è in questo momento. E questa parte è fatta. Adesso possiamo provare a fare un test di acquisto. Ok, sono sul mio prodotto di test, lo aggiungo al carrello, visualizzo il carrello, vado alla parte di procedico l'ordine. Ora, ci sono anche questi bottoni per acquistare direttamente, però vado comunque sulla parte di check-out. Test, test. Unito, vabbè. Test. Città. Test. Un, due, tre. Telefono. Tutte queste cose, poi, vabbè, sono quello che è il 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 check-out di default. Bene, sono alla parte di pagamento e qua, perché in modalità test, mi dice di utilizzare questo numero di carta di credito, quindi questa è è l'integrazione con WooCommerce. Mi permette di scegliere carta di credito via Stripe come metodo di pagamento. Non ce ne sono altri, quindi è l'unico che viene visualizzato. Aspire day 12 24 1 2 3 Se voglio posso salvare le informazioni di pagamento che vengono salvate comunque su Stripe, quindi niente di critico per il tuo sito e posso effettuare il mio ordine. Ok, il CAP non è valido. Il CAP del Regno Unito, non lo so. Mettiamo Italia 2 3 4 5 ed ecco che sta processando l'ordine ricevuto, quindi il pagamento è stato effettuato. Se vado all'interno della mia bacheca e WooCommerce negli ordini ricevuti, ho questo ordine che è quello che abbiamo fatto adesso in lavorazione. Se vado nei dettagli posso vedere sia qui pagamento tramite Stripe Card con il numero di transazione, codice di transazione e qui nelle note anche qua lo stesso codice. Se clicco mi apre direttamente la pagina sulla dashboard di Stripe dove vedo questa transazione in modalità test. voglio fare un refund posso farlo da qua dando la motivazione e vabbè questa è la gestione che si fa su Stripe. Comunque ripeto due parti una creazione dell'account e andare sotto developers API keys e l'altra parte invece installare il plugin e configurarlo con queste key e il webhook che abbiamo configurato per catturare questi eventi di charge. se ti interessa questo tipo di contenuti fai subscribe a questo canale perché ne arriveranno presso gli altri. Un saluto e alla prossima!